Angelo Pagano, abbiamo visto il servizio sulla Bartoccini, questa sconfitta che per certi versi non cambia un po' anche quelle che sono le prospettive, abbiamo ascoltato nelle ultime settimane anche le parole del presidente Bartoccini sappiamo che c'è la volontà di riportare ad un certo livello la pallavolo femminile di Perugia con questa acquisizione del titolo sportivo in A2, come secondo te può questa squadra affrontare questo campionato? Con quali prospettive? Perché a volte sentiamo parlare di Sirio, altre volte sentiamo parlare di salvezza chiaramente sono due emisferi in questo momento un pochino contrapposti, tu che sei un esperto secondo te qual era? Una piccola rettifica al momento della presentazione, ho lasciato un sottointeso grave perché per chi è appassionato di pallavolo ho detto, poteva sembrare di aver detto una inesattezza quando ho parlato per la Sir Safeti di primo successo storico nell'ambito della pallavolo perugina, ho dimenticato di dire campo maschile perché nel campo femminile proprio la Sirio che tu hai citato ne ha vinti ben 15 credo di titoli fra Scudetti, Coppe dei Campioni, Coppe Cev e altro Detto ciò, diciamo che la sconfitta in questo esordio di campionato, questo primo campionato di A2 per la Porto Cirurgia Perugia, per come è maturata e per il valore delle avversarie ci sta tutto ma c'è una spiegazione, non è una sconfitta frutto del caso c'è uno stato di, c'è un rodaggio, diciamo uno stato di preparazione che è completamente diversa fra le due squadre di fronte c'era il Club Italia, che cos'è il Club Italia? La Federazione Italiana Pallavolo da anni per cercare diciamo di migliorare quelle che sono le nazionali di categoria, cioè le varie under 16, le varie under 18 che partecipano ai campionati europei e mondiali e tiene questi blocchi di squadre nei campionati di A2, di B1, di B2 insomma proprio per cercare di far maturare prima e meglio queste ragazze quindi parliamo di un gruppo di ragazze giovane che era reduce da una vittoria mondiale dell'under 18, per dirvi, insomma non erano ragazze da prendere assolutamente sotto gamba loro sono il futuro della nazionale italiana di pallavolo quindi voglio dire, sono insieme, stanno lavorando insieme con le ragazze da giugno credo, morale della favola, mentre Bartocinio Giuliani e Perugia come tante altre società del campionato di A2 hanno cominciato i lavori da 40 giorni e per arrivare a un stato di forma ideale, un stato di forma campionato bisogna aspettare ancora un altro mesetto perché sono tutte, per lo più, queste squadre del campionato di A2 squadre abbastanza nuove, cioè che vengono state praticamente ricomposte nella stagione estiva di volley mercato la cifra tecnica della squadra della Bartocinio Giuliani e Perugia è buona cioè non sono, diciamo, c'è una buona palleggiatrice, la Fiamma Mazzini c'è la Pascucci, un'ottima banda non sono, diciamo, ragazze sprovedute o ragazze non abituate a questa categoria credo che anche qui bisogna aspettare qualche altra partita soprattutto anche dalla prossima quando comincia magari a confrontarsi proprio con squadre che potrebbero avere lo stesso loro livello di preparazione e di rodaggio quindi alla fine dei giochi è una sconfitta per nulla preoccupante ripeto, tenuta contro un'avversaria molto forte molto forte, sia per il valore delle singole che per la cifra tecnica complessiva perché, ripeto, avevano appena vinto un campionato mondiale under 18 e quindi è un plauso a queste ragazze italiane sottolineo italiane, nonostante non sembrasse in campo che portano avanti i colori azzurri Allora, c'è un altro aspetto che volevo sottolineare con te che questa settimana sarà poi anche la settimana in cui iniziano i campionati di Serie B nel fine settimana prenderanno, diciamo, il via squadre che noi seguiamo abitualmente anche con la nostra redazione di VolleUmbria.it che è Pallavolo Perugia con la 3M insomma, un po' tutti i campionati diciamo che quest'anno ne parlavamo ieri appunto in redazione c'è un aspetto che nobilita l'Umbra che ci sono tra maschile e femminile diverse eccellenze nei campionati nazionali le vuoi ricordare tu? Sì, questa è una situazione un po' forse anomala per quello che è un po' la realtà pallavolistica Umbra nel suo complesso Sabato prossimo è vero il prossimo fine settimana cominciano praticamente tutti gli altri campionati nazionali a partire dalla Superlega che vedrà impegnata proprio da Sir Safeti Perugia fresca vincitrice di Supercoppa partiranno anche i campionati di B sia maschile che femminile e partirà anche la A1 femminile l'unico diciamo campionato nel quale che non vedrà impegnate squadre Umbra diciamo che c'è un lotto di formazioni perugine concentrate in B2 quest'anno abbiamo tre formazioni perugine di pallavolo tutte e tre di Perugia sono le uniche tre formazioni Umbra sono tutte e tre di Perugia sono Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e poi c'è Pallavolo Perugia cosa aspettarsi nel complesso da questa stagione dalle squadre Umbra ah dimenticavo nel settore maschile in B maschile c'è la seconda squadra Sir sarà presente la Sir Safeti con la squadra di B insomma che hanno vinto il campionato di Serie C l'anno scorso e quindi si presentano anche loro per la prima volta diciamo in questo campionato per la prima volta si fa per dire perché la Sir c'è già passata fanno come il Real Madrid la seconda squadra la seconda squadra della Sir Safeti che farà il campionato di B maschile cosa aspettarsi da queste formazioni perugine secondo me hanno un po' tutte diciamo come primo obiettivo la salvezza sicuramente sicuramente perché i campionati di Serie B non sono comunque tanto facili perché bisogna sempre vedere il girone chi sono le altre contendenti quindi insomma credo che la salvezza sia proprio il primo obiettivo di tutte queste quattro formazioni perugine in campionato di Serie B se uno invece vuole guardare un po' fuori città diciamo che forse in B1 ci sono due formazioni una di Trevia e una di San Giustino che potrebbero ambire al salto in A2 se ciò dovesse verificarsi ovviamente in bocca al lupo a tutte le società Umbra tutte le squadre Umbra impegnate in questa giornata in bocca al lupo un po' ironico l'anno prossimo potrebbe esserci un grosso ingolfamento in A2 e in redazione con te che sarai poi preso da milioni di comunicati che devi gestire e impaginare a tutti i nostri spettatori